Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di trenette 500 grammi di cozze Una confezione di vongole Una cipolla Uno spicchio d'aglio Zucchine Due pomodori rossi Prezzemolo Basilico Vino bianco Olio Sale Pepe Preparazione Far aprire le cozze con uno spruzzo di vino Prezzemolo e aglio Cuocere per 5 minuti i pomodori a pezzi con olio e aglio Sale e pepe Unire le vongole e cuocere per 2 minuti Far appassire la cipolla tritata Unire le zucchine ad adini e il prezzemolo Portare a cottura con il liquido delle cozze Infine unire le cozze Condire le trenette lessate con le due salse e il basilico Il piatto è pronto Buon appetito A presto Buon appetito Buon appetito Buon appetito